Questo l'agghiacciante scenario che si sono ritrovati improvvisamente davanti agli occhi. I ciclisti che di buon'ora percorrevano la pista lungo il fiume Isarco all'altezza del nuovo quartiere Bivio Caesaro a Bolzano. Strada transennata, polizia, pompieri e un corpo coperto da un telo bianco. Un'immagine inequivocabile, segno che purtroppo si è di fronte ad un'altra tragedia. Dopo il ritrovamento l'altro giorno nei pressi di Laives di una salma nelle acque dell'Adige, intorno alle 7 del mattino di mercoledì 17 agosto 2011, l'addetto di un convoglio ferroviario passando con il treno sul ponte che sovrasta di Isarco ha notato un corpo tra i flutti. Scattato immediatamente l'allarme, sul posto si sono recati i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano con gli specialisti del soccorso fluviale scesi in acqua con il gommone. Contemporaneamente dall'ospedale di Bolzano si è levato in volo anche l'elicottero del 118. In pochi minuti i soccorritori hanno individuato e recuperato la persona che era stata segnalata. Si tratta di una donna sulla sessantina. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. Stando ai primi accertamenti effettuati dagli uomini della polizia coordinati dal dottor San Giovanni, si tratta quasi certamente di morte per annegamento. Si esclude la responsabilità di terzi. L'ipotesi è quella di un incidente, una caduta accidentale, ma non si esclude anche quella di un gesto estremo. Sull'accaduto sono in corso ulteriori indagini da parte della polizia.